Sono Fabrizio Barbareschi, titolare dello studio di registrazione Raffinerie musicali di La Chiarella. I nostri studi di registrazione sono immersi nella natura, ma a solo 5 minuti da Milano. Abbiamo 6 anni di esperienza nel mondo della musica jazz, latin, blues e funky, e la nostra idea è quella di specializzarsi sempre di più in quello che sappiamo fare meglio. Abbiamo creato nuovi ed ampi spazi, eleganti, con strumentazione ai massimi livelli. Qui potrete suonare con molti strumenti vintage, che abbiamo raccolto pazientemente negli anni. Il nostro record di studio, Raffinerie musicali, è stato interamente realizzato dalla SM di Pino Stillitano, seguendo al 100% le nostre esigenze acustiche ed estetiche. Da un anno abbiamo anche aperto un'etichetta indipendente per la produzione di musica e CD di artisti emergenti. Insomma, un ambiente a misura di musicista. musicista Non solo, per tutto il 2011 vi studieremo con offerte e promozioni. Vi aspettiamo!